Sì, oggi viene soppresso il passaggio a livello, come era previsto già dalla convenzione che era stata approvata dalla precedente amministrazione a dicembre del 2015 in Consiglio Comunale. Addirittura doveva essere soppresso a metà luglio quando abbiamo aperto il nuovo sottovia di Via Foscolo. Poi abbiamo chiesto alle ferrovie di posticipare la data, visto la stagione estiva, e quindi siamo arrivati al 2 settembre. Ci saranno dei disagi naturalmente per la popolazione in questo periodo di lavori, ma cercheremo di stare dietro all'RFI e a chi farà i lavori per fare in modo che per la prossima stagione estiva ci sarà il nuovo sottopasso pedonale che è stato previsto dalla trattativa. Voi rispetto al progetto originale avete fatto pressione per delle migliorie, quelle che potevate comunque riuscire a ottenere. Sì, la trattativa si era già conclusa, quindi abbiamo cercato di apportare le migliorie che potevamo portare avanti e richiedere dai progetti che erano già previsti. Abbiamo chiesto che nel nuovo sottovia di fianco in quella che è la pista ciclopedonale, quella venisse adibita per passaggio di emergenza, e quindi quella ci è stata accolta da RFI e qui al sottopasso ci sono state delle migliorie soprattutto per quanto riguarda la rampa centrale che verrà allungata e la presenza di ascensori per disabili. Ci saranno altri due passaggi di emergenza, uno era già previsto qui all'altezza del passaggio a livello e un altro è stato aggiunto un passaggio di emergenza in via Parini, sempre passaggi di emergenza naturalmente a raso. Qui RFI farà un passaggio pedonale e quindi insomma il collegamento tra la zona monte e quella mare sarà comunque assicurato per quanto riguarda i pedoni. Sì, soprattutto anche per mettere in sicurezza e per mettere la fruibilità a tutti coloro che vogliono accedere con le biciclette e con i pedoni alla zona mare. Quanto durerà il cantiere? Il cantiere noi ci auguriamo che termini per giugno del 2020, quindi per la prossima stagione estiva. Come ho già detto le RFI ci hanno assicurato che termineranno salvo imprevisti per quella data e noi ce lo auguriamo e staremo dietro come amministrazione comunale per quanto possibile a velocizzare questi lavori e fare in modo che vengano conclusi il prima possibile. Grazie a tutti.